Sicuramente il nostro è un po' un osservatorio privilegiato sia perché appunto parliamo con diverse aziende ma anche perché facciamo diversi tipi di servizi quindi diciamo che rispetto alle storie che sono state raccontate noi ci ne stiamo sia magari nella parte iniziale di trasformazione di consulting di advisor quindi nel supportare diciamo programmi tipo quelli che sono stati raccontati dai colleghi ma poi con la nostra parte di outsourcing serviamo anche servizi continuativi anche in ambito procurement quindi con i nostri con i nostri team di category manager che supportano i clienti quindi diciamo che abbiamo un osservatorio privilegiato non tanto non solo per il numero di clienti con i quali parliamo ma anche per il tipo di servizi che forniamo e quindi nel momento del processo nel quale ci innestiamo. Il tema degli acquisti indiretti è ancora un tema caldo, un tema sicuramente ancora nelle agende di tutti i CEO delle aziende con le quali parliamo e questo è anche un po' rispetto a quello che si diceva all'inizio al tema della maturità è anche un po' indipendente dalla maturità perché comunque anche aziende che hanno fatto le trasformazioni il caso che ci si diceva prima di L'Oreal lo testimonia stanno anche magari ripensando a come ulteriormente andare a modificare e ottimizzare quella che è la propria struttura. Molte aziende è stato molto comune diciamo negli anni scorsi fra appunto il passaggio che si raccontava di appunto andare ad attingere dalle funzioni quindi anche lì non andando ad aumentare il perimetro totale degli ad account aziendali ma andando poi a trasferirli all'interno delle funzioni e quindi sicuramente ci sono delle competenze hard molto importanti soprattutto sulle categorie strategiche quelle che hanno comunque un livello di spesa molto alto. E' chiaro che questo non può essere fatto su tutte le categorie proprio perché gli indiretti hanno la caratteristica di essere molto molto frammentati e di avere tantissime diverse categorie merceologiche con tanti con tanti diversi 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 criteri di base di fornitura e di complessità di mercato. La seconda caratteristica che è molto importante che sta citata più volte negli interventi di oggi sono categorie più soft no quindi io molto spesso li definisco degli influencer no hanno la capacità progettuale la capacità manageriale di lavorare a stretto contatto con con le funzioni con i clienti interni per poter poi essere anche dei fautori del cambiamento perché molto spesso diciamo che ormai tutti quanti quello che c'era da prendere di semplice lo abbiamo fatto no siamo stati siamo stati bravi ad andare a cogliere le ottimizzazioni più legate al mondo del prezzo ad oggi le sfide sono sfide che devono portare anche dei cambiamenti al modo in cui quella categoria affrontata e quindi sicuramente questa caratteristica quindi la caratteristica di essere degli influencer ad essere in grado di influenzare le funzioni nel cambiare approccio alla categoria merceologica in maniera creativa la maturità è sicuramente un tema che poi impatta sul percorso di trasformazione quindi facendo un esempio di un'azienda che non è intorno al tavolo con la quale lavoriamo da anni con la quale abbiamo condiviso tutto il percorso di trasformazione che abimber che è il leader mondiale nella produzione di birra loro anche loro hanno iniziato un percorso di trasformazione circa 15 anni fa appunto lavorando a portare all'interno degli acquisti le persone dalle delle funzioni quindi arrivando ad un controllo della spesa che oggi è di circa il 95 per cento quindi rimangono pochissimi acquisti e acquisti specializzati e questo è stato fatto diciamo a livello globale e poi diciamo anche ha anche dato modo di creare un modello che poi è stato sfruttato nel corso delle tante acquisizioni che hanno fatto nel corso di questi anni il caso dall'altro lato quindi il caso invece di aziende che magari si affacciano oggi alla trasformazione degli indiretti quindi che partono oggi da una situazione dove gran parte della spesa indiretta è gestita dalle funzioni che quindi si trovano magari a a dover agire rapidamente perché fondamentalmente devono recuperare un po quel gap che che si è creato in questi dieci anni chiaro che è proprio per il contesto di mercato che descrive all'inizio aziende di questo tipo e un paio di esempi qui in italia quindi aziende del largo consumo che non sono qui intorno al tavolo con le quali stiamo lavorando recentemente che hanno fatto un percorso lasciami dire accelerato no quello che di solito noi chiamiamo il salto triplo no quindi anziché passare da dal percorso che ha fatto l'oreale che ha fatto a bimbe che sta quello appunto di centralizzare ragionare appunto col tempo di andare a ottimizzare le relazioni con gli stakeholder per poi magari ripensare a quelle attività posso in effetti dare fuori comunque sulle quali possono concentrarmi il salto triplo è arrivare dall'oggi immediatamente allo stadio finale però che è molto complicato sicuramente una mattinata interessante che ha che ha avuto modo di mettere a confronto le esperienze di realtà con percorsi diversi quindi percorsi di maturazione della funzione acquisti indiretti diversi e quindi soprattutto diciamo che ha offerto spunti di riflessioni un po a tutti su come la funzione acquisti del futuro potrà 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 sembrare un'esperienza che comunque consiglio a tutti proprio perché diventa un'esperienza per un po settare quelli che sono le aspettative della propria azienda su come la funzione evolverà e soprattutto come un'occasione di networking per poi diciamo far generare discussioni successivamente grazie a tutti grazie a tutti